Quante volte si è all'interno del bagno e qualcuno, spesso e volentieri, bussa perché ne ha giusta necessità? Una premessa simpatica per farti capire che qui, in questo appartamento, in Cassino, hai la presenza di un doppio bagno, un doppio servizio eugenico, ma nelle dimensioni sono ampi, non sono piccoli, sono tutti e due ampi. Questo è il secondo, il primo, l'abbiamo visto nel precedente video. In questo video puoi guardare la spaziosità di questo secondo ambiente bagno, più vicino alla zona notte. Apprezzi subito, grazie alla tecnologia a disposizione, spostando con la visuale leggermente sulla tua destra indietro, lo scalda serviette a parete, oltre la porta, venendo in questa direzione, verso di me, abbiamo quindi lo specchio, il lavandino, il bidet, la tazza e la doccia con il box. Apprezza anche quello che è l'infisso in legno e l'elemento tercosifone in alluminio, con la panoramicità sopra il balcone al quale si accede dalla cucina. Ti rimando quindi sul sito per il video degli altri ambienti.